se bella tutti i ragazzi mi ricorda niente questo youtube. 0 un video speciale senza lo zio purtroppo ma è un video speciale come ho detto appunto siamo quasi arrivati a 50 iscritti mamma mia come avete già letto dal titolo questo video si chiama iscritto di cambi per l'appunto voi vi iscrivete al canale se vi piace questo video scrivete nel commento scrivete iscritto noi ci iscriveremo al vostro canale ovviamente con un po' di tempo perché speriamo di essere in tanti quindi con un po' di tempo iscriverete tutti ma sarà la cosa immediata e non dovete iscrittare i cambi chiedendoci lo basta che iscrivete iscritto e noi ci iscriveremo sicuramente il giorno dopo già ci saremo iscritti e niente spero che sarete in tanti bene alla prossima e butti no volevo fare presente ragazzi ma avete notato che all'inizio c'è scritto quello che deve dire o almeno uguale va va a 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 Grazie a tutti.